Mio Roberto, come sta adesso? Psicologicamente sono ancora un po' abbattuto perché non riesco a dormire via. Il dolore, la spalla, non riesco a alzare il braccio. Questo lo muovo un po' perché è ancora un dolore anche. E qua adesso ho cambiato cerotto anche stamattina. Ha su tutto il corpo i segni della violenta lotta con i banditi, come lui il figlio quarantenne e la moglie, erano in casa, Roberto Martello e la sua famiglia, quando sabato sera quattro persone, forse nordafricane, si sono introdotte nella villetta dove vive a Cartura, attrezzate di tutto punto per aprire la cassaforte. E proprio in taverna i tre si sono diretti, non esitando a farsi strada con la forza. Mia moglie è seduta qua, io sto facendo l'impiede telefonino, giro la testa e vedo sta gente che viene giù. Ci hanno minacciati continuamente. Io sono andato con un amato per difendermi, per scoprirgli la faccia. Lui ha dato uno spintone a mia moglie. Automaticamente arriva mio figlio che si trovava in studio perché ha sentito dei rumori e anche lui l'hanno buttato per terra. Un coltello, un cacciavite in mano. I banditi hanno colpito violentemente alla testa lui e il figlio con questo paiolo di rame. Un furto organizzato, sospettano gli inquirenti. I carabinieri in queste ore stanno passando a setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. A caccia della banda, fuggita con l'auto della famiglia, che è stata poi abbandonata e ritrovata dagli investigatori. ladri che non si sono accontentati di arraffare i contanti dalla cassaforte. Circa 3.000 euro. Avevo una catenina al collo, me l'ha strappata, e più poi anche a mia moglie le ha preso la mano, le ha portate via anche l'anello che aveva al dito. È dura, ecco, ha capito, psicologicamente non lo so.